Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video finalmente e come promesso apertura del pacco da card game club cosa con terra vediamo ora se riusciamo ad aprire il pacco maledetto ma come si apre ok andiamo a vedere l'interno allora 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 pacchetto da 50 verde ultra pro mettiamo tutto qui da 100 verde e da 100 nero che sono figo poi un cartone la ricevuta e le terre base di magic si qualche partita la magic random me la faccio e si attenzione attenzione i mazzi di force of wheel abbiamo uno starter deck rosso fuoco scusate uno verde per la mia ragazza e uno per un mio amico nonché compagno di banco il ninja colui faceva parte anche delle vecchie un box bene l'apertura non so quando la farò mettiamo qua tutto bello il cartone non lo scambio quindi non me lo chiedete e niente questa era l'anteprima del pacco caricherò le aperture di questi due quasi sicuramente di questo non lo so perché del mio amico appunto niente lasciato mi piace un commento iscriviti al canale ringrazio tutti i 1389 iscritti e niente arrivederci al prossimo video